E' un piacere di avere qui con noi a mattina live un volto dai tanti talenti e nonostante la sua giovanità possiamo dire che già ha noverato tantissime esperienze nel mondo dello spettacolo. Speaker radiofonico, conduttore televisivo, attore modello, ha partecipato in numerosi programmi sia in Rai che anche in Mediaset e adesso recentemente è presente in qualità di conduttore al Talent The Coach che per l'appunto conduce in compagnia di Chiara Esposito. Il buongiorno al talentuoso Rocco Pietrantonio. Rocco buongiorno, ben trovato qui con quest'oggi, come stai? Sì, sono la giovane. Sì, 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 lo sei, giovanissimo ma tra l'altro per l'appunto come dicevo prima Rocco hai banti già tante esperienze nel mondo della televisione, nel mondo dello spettacolo ma recentemente possiamo apprezzarti alla conduzione di The Coach insieme a Chiara Esposito. Io partirei proprio da qui perché oggi ti conosceremo veramente a 360 gradi e ne siamo ben contenti, ci siamo felici. Che tipo di esperienza è quella che hai vissuto, stai vivendo con The Coach? Beh, è un'esperienza meravigliosa che condurre un programma, ma non è molto semplice condurre quel tipo di programma anche perché abbiamo avuto a che fare con tantissimi talenti. La cosa bella è vedere proprio questi ragazzi che ci mettono l'anima, il cuore, il sentimento ed è diventata una grande famiglia The Coach. L'esperienza è bellissima, lo stanno seguendo in tanti, siamo molto contenti, ci stiamo divertendo. Abbiamo lavorato davvero tantissimo dalla mattina alla sera, a volte non si capiva nulla, però alla fine per fortuna ce l'abbiamo fatta, abbiamo ottenuto un ottimo risultato ed è stato veramente bellissimo. Tra l'altro un'esperienza, possiamo dire Rocco, un po' diversa dal solito e che ti riguarda per te che sei un volto noto della televisione. È un modo anche questo per riprendere la TV? Sì, sì, è stato assolutamente un modo bello ed importante perché attualmente, ormai sono anni che lavoro a Radionorma come speaker radiofonico, quindi utilizzare le capacità radiofoniche su un palco del genere, un palco importante, una trasmissione importante, è servito molto. Quindi la radio mi ha aiutato molto a crescere in questa cosa perché avere a che fare con tanta gente a volte non devi ascoltare le persone, il pubblico deve essere molto concentrato, soprattutto noi ci siamo concentrati sui ragazzi che sono stati veramente incredibili. Abbiamo scoperto anche dei talenti pazzeschi, anche chi veramente ha messo in gioco qualsiasi cosa. Ci sono state piante, emozioni, sorrisi, quindi davvero un programma meraviglioso, sono molto soddisfatto. Che ti prende davvero in maniera totale, considerate anche le tue precedenti esperienze, puoi anche comprendere qual è lo stato d'animo, i tanti ragazzi che per l'appunto si mettono un po' in discussione, mettono in discussione la loro arte e sicuramente è cosa non facile per loro. Sì, sai cosa? Che quando insomma vedevi entrare questi ragazzi che dovevano insibirsi, ti ricordavi quando magari tu vent'anni fa dovevi farlo tu come affrontare proprio io. Per l'appunto Rocco, proprio con l'esperienza del poi, facciamo un passettino indietro e quindi io vorrei che tu ricordarsi anche un po' i tuoi esordi che ti hanno visto anche protagonista come tronista a Uomini e Donne. Che esperienza è stata quella? Sì, vabbè, diciamo che io sono stato molto anche nei salotti televisivi, quindi facendo anche l'inviato della D'Urso, la Panicucci. È stata un'esperienza incredibile all'epoca quando comunque facevi un reality, io ho fatto un reality che si chiamava La Fattoria, non so se te lo ricordi. Quindi diciamo che avevi molti sbocchi, quindi avevi una grossa visibilità rispetto ad ora che magari se fai un reality, siccome ce ne sono tantissimi, o ti dai da fare o hai la fortuna di avere una continuità. Diciamo che oggi è un po' più difficile perché all'epoca quando facevi un reality realmente avevi una popolarità gigantesca. Diciamo che oggi, col fatto che ci sono tanti, col fatto che è un po' più difficile arrivare alla notorietà, alla popolarità, è semplice ottenerla. Però la difficoltà è mantenere la continuità, ma non continuità come personaggio, ma continuità anche nel far capire al pubblico che sai fare qualcosa, non so come rappresentare una radio importante o anche condurre dei programmi. Esatto, tra l'altro parli di tante esperienze, di come comunque tu sia cresciuto tantissimo e sia riuscito ad affacciarti a varie declinazioni del mondo dell'arte, perché lo stai dicendo, conduzione, ma anche spirito radiofonico, attore, inviato. Insomma, davvero tanto che oggi metti a servizio di Ducoach, ma comunque metti a servizio del pubblico che ti segue con tanto affetto, così come i tuoi fans. Tra l'altro, ecco, fra le varie esperienze, Rocco, se mi permetti, vorrei fare un passaggio anche su un altro format che ti ha visto comunque presente, protagonista, ovvero Amici di Maria De Filippi. Ecco, confrontarti con un'icona così grande della televisione, perché oggi, Amici, è un format ancora di grande successo. Che cosa ha significato per te ieri, ma perché continua, secondo te, Amici, ad avere così grande successo fra i giovani e piace, non solo ai giovani, ma anche agli adulti? Beh, continua ad avere successo perché ovviamente c'è una grande donna, che si chiama Maria De Filippi, che riesce a stupire ogni volta. Infatti, se osserviamo la sua conduzione, quello che riesce a creare attraverso questa trasmissione, è appunto vedere la genuinità e l'affetto che riesce a dare a questi ragazzi e a dare realmente una possibilità, perché quando tu fai un programma del genere, realmente devi sfruttare al meglio l'occasione, perché fai vedere, puoi dimostrare all'Italia intera il tuo talento e quello che tu puoi fare. Quindi le possibilità sono tantissime, però bisogna comunque darsi da fare. Darsi da fare per te, quindi che cosa ha significato poterti confrontare con personaggi così importanti, che mettono a servizio comunque la verità e lo sprono, lo simolo dei ragazzi, ma per te che cosa ha significato farlo in relazione a quelli che poi sono stati i tuoi progetti futuri? Ti ha servito, penso tantissimo. E' un significato importante perché attraverso quell'esperienza capisci che cos'è fare televisione. Quindi quando sei in uno studio televisivo del genere, come quello di Amici, ti rendi conto che potenza è e quanto è giusto sfruttarla, è come sfruttare una determinata occasione. Quindi bisogna essere molto concentrati e capire bene che cosa stai facendo, non farti illuminare dalle luci, dalla popolazione. Realmente che può essere un'occasione che non è per sempre, ma che poi ci puoi lavorare nel te. Ascolta, naturalmente sei molto conosciuto Rocco, non solo per il tuo talento e per le esperienze nel mondo dello spettacolo, ma anche per la tua storia d'amore con l'Ori del Santo. Possiamo entrare un po' più nell'intimo e chiederti che cosa ti resta di quella storia d'amore? Ma sai, quella è stata una storia assurda, perché non tutti credevano a questa storia, ma in realtà io effettivamente la colpo su Facebook, cioè nessuno ci crede, ma è vera sta cosa qua. Le mandevo un messaggio, poi lei mi rispose, ci incontrammo, da lì partì tutto. Ovviamente grazie a lei anche ho avuto una grossa popolarità, perché quando hai a che fare con un personaggio del genere, noto, popolare, automaticamente di riflesso riesci ad avere una popolarità incredibile in pochi secondi. Quindi anche grazie a lei, se qualcuno mi incontra per strada, non mi dice solo, ah ti ho visto lì perché hai fatto questo, mi dice, ah ma tu eri quello che stava con l'O, ho detto io, io sono sempre io, però sono passati tanti anni ormai, però anche lì era un'arma a doppio taglio perché dovevi dimostrare non solo che eri fidanzato con una persona di un certo livello, ma dimostrare anche che avevi delle capacità di comunicazione. Per poterla accompagnare insomma. Esatto, esatto, perché stare sopra con una donna del genere non è assolutamente facile, però è stata un'esperienza, è capitata, non è stata premeditata, e va bene così assolutamente. Ascolta, poi successivamente vi permetti ecco di conoscerti ancora di più, ti conosciamo anche poi per il matrimonio a sposi, la figlia di Boldi, Claudia Boldi, da cui nasce la piccolissima Mia, una relazione giunta a capolinea, resta l'amore, il tuo grande amore oggi è mia, cosa possiamo dire di questo legame? Beh sai che a volte nella vita accadono delle cose, poi non vanno bene come insomma si può prevedere, però bisogna comunque dare continuità a quello che rimane di bello in questa storia, è rimasto di bello una cosa importante, la cosa più importante della vita, quindi bisogna affrontarla in maniera sana e intelligente. Che rappresenta per te Mia? Beh rappresenta l'assoluto, rappresenta una presenza che è continua, rimane nel tempo, rimane per sempre, per tutta la vita. Marocco oggi ha voglia di innamorarsi ancora? Beh sì, attualmente sto con una compagna, quindi... Possiamo svelare il nome? Si chiama Giada, si è ormai uscito sui giornali, quindi possiamo dirlo. Sono tre anni e mezzo che sto con lei, insomma procede e andiamo avanti. Ascolta, in bocca al lupo, naturalmente, non solo per la tua vita personale, ma anche per la tua carriera lavorativa, lo ricordavamo, speaker radiofonico, attore, modello e poi ancora conduttore televisivo, in quale di queste vestiti ti riconosci maggiormente e in quale ti senti più legato? Attualmente mi sento più legato alla radio, perché credo che sia... È un bel mondo la radio, vero? Realmente il mio lavoro, quindi sono molto legato, proprio fortemente da nove anni. Tutto il resto è un contorno felice, colorato, che continuo a giocare e spero ci sia sempre, ci sia continuità, quindi va bene così. E noi ti auguriamo tanto sole nella tua vita, un mega in bocca al lupo. Con il sole di Napoli. Ti aspettiamo a Napoli, sì, con il sole di Napoli. Rocco, tanti auguri a te, grazie di esserti presentato quest'oggi, abbiamo la possibilità di conoscerti a 360 gradi e naturalmente tienici informati sui nuovi progetti che ti riguarderanno. In bocca al lupo. Grazie. Grazie. Un bacio a tutti e un abbraccio. Grazie mille. A te, grazie a Rocco Pietrantonio per essere stato qui con noi oggi.